Busto 81 a ritmo di musica, la musica che abbiamo suonato domenica, abbiamo suonato l'Hardor Lazzate qua con noi c'è uno dei protagonisti, il nostro portierone Andrea Monzani, ciao Andrea Ciao È stata una gran bella partita insomma, nel senso, e in questa partita c'è stato anche qualche cosa di tuo, ce lo vuoi raccontare? Sì, sì, sicuramente è stata un'ottima partita, come tutte le altre che abbiamo giocato fino ad ora stiamo proponendo un ottimo gioco a mio modo di vedere, il mister è contento, stiamo mettendo in pratica quello che ci spiega durante la settimana e questa volta, sta domenica, è arrivato anche un mio intervento decisivo, fortunatamente dopo un po' di partite che è stato lì a guardare gli altri giocare, però sono contento di dare il mio contributo alla squadra E mi sembra anche che ci sia una squadra che sia in crescita, come la vedi da dietro? Sì, sì, assolutamente, appunto, come ti dicevo, cerchiamo tutte le domeniche di proporre il solito gioco e appunto... Adesso una domanda cattivella te la vogliamo fare, nel senso, abbiamo visto il gol della settimana prima, giusto no? Come la vive magari una settimana un portiere e poi ovviamente abbiamo visto le parate della settimana dopo raccontaci queste emozioni. Non stiamo dicendo che, cioè, magari uno prendendo un gol del genere dice, vive una settimana, è questo che vogliamo fare nel senso... Beh, fortunatamente, come dici te, ogni settimana c'è una partita nuova, quindi è uno sport che ti dà la possibilità di una settimana dall'altra di migliorare dove hai sbagliato e, nello stesso modo, adesso non bisogna elogiarsi troppo per quello che si è fatto, perché comunque tra una settimana sarà un'altra partita fondamentale come sono d'altronde tutte quelle del girone. Perfetto, ok, ringraziamo Andrea, ciao! Ciao, grazie mille! Grazie mille!